Fiore delicato, di valore, pregiato, questo fiore era la nostra Dora, troppo presto recisa dalla vita. Con queste parole il sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi commenta la tragica morte di Dora la Greca, la giovane di Montesano deceduta nella notte tra venerdì e sabato scorso. Una morte che resta avvolta dal mistero mentre gli inquirenti continuano ad indagare sulle ultime ore di vita della trentenne. Una caduta da 12 metri di altezza fatale per la giovane che intorno alle 2.30 di notte è precipitata dal balcone dell'appartamento del suo fidanzato dove si trovava dopo una serata trascorsa in allegria con amici. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono molteplici e nulla è escluso. Non risultano però al momento persone iscritte nel registro degli indagati. Intanto emergono nuovi fatti che raccontano di un litigio con il fidanzato prima della tragica morte della ragazza che lavorava presso una scuola di Tito. A dare l'allarma è stato il fidanzato che ascoltato per diverse ore dagli inquirenti avrebbe raccontato del litigio con la giovane che sarebbe poi culminato quando la trentenne avrebbe minacciato di lanciarsi di sotto. Il ragazzo, secondo quanto riferito dallo stesso agli inquirenti, avrebbe tentato di afferrarla prima della caduta dal quarto piano della palazzina senza però riuscirci. Ad esserle è stata fatale, secondo le ipotesi, un colpo alla testa nella caduta quando è andata a impattare contro una parabola che sporgeva nella traiettoria. Le indagini però non si fermano e per la giornata di domani è attesa l'autopsia sul corpo della ragazza che al momento si trova presso l'obitorio dell'ospedale San Carlo di Potenza dove la ragazza pare sia giunta viva dopo che lo stesso fidanzato ha chiamato i soccorsi. Nonostante l'immediato trasporto in ospedale per la giovane non c'è stato nulla da fare ed è morta poco dopo. Il litigio tra i due giovani emergerebbe anche dalle testimonianze di alcuni vicini che li avrebbero sentiti discutere pare animatamente. Gli inquirenti comunque non lasciano nulla al caso e stanno abbattendo ogni pista per cercare di ricostruire le ultime ore di vita della ragazza e riuscire a determinare cosa abbia portato al tragico epilogo. Una morte sconvolgente che ha drammaticamente colpito tutta la comunità di Montesano. Il primo cittadino Rinaldi manifestando il profondo cordoglio alla famiglia e ricordando la giovane come un fiore delicato e di valore la cui morte ha profondamente ferito e addolorato tutti annuncia che per il giorno in cui saranno celebrate le eseque sarà proclamato lutto cittadino.